Pietro Raffa, Saul Rodi, Edoardo Moni in seconda, Solcaliente VL, Federico Esposito, Spider Blessed, Marcello De Nicola, Suoi Adella Luna, Enrico Bellei, Sandros, Slide SM, Francesco Pettinari, Charada B, Eric Bondo, Sara Vogan, Davide Di Stefano, Samurai, Del Corso, Gennaro, Casillo. Stacco della macchina. Davanti Shomar, all'esterno sono veloci, 7-11 Pink. Numero 5, Sam Fuyago Ging, squalificato. Primi 200 in 13, 6, sbaglia Shomar. Sbaglia Shomar, 7-11 scende allo steccato, a ridosso Saul Rodi, intanto ha sbagliato anche Spider Blessed, più indietro in terza posizione. Intanto, se ho preso bene io... Numero 7, Silana Lung, squalificato. 27, 7 per i primi 400 metri. Molto più indietro, dicevo, in terza posizione, Sandro FP. 43,5 per i primi 600 metri. Numero 3, Sia Dei Venti, squalificato. La retta opposta alle tribune, 7-11 in vantaggio, Saul Rodi di rincalzo, poi Sandro FP, poi in risalita, Suoi A della Luna, Samurai del Corso appostato alla corda. Metà gara coperta in 1-1 da 7-11, che è raggiunta da Suoi A della Luna. Suoi A che passa sul burro e si va ora verso il completamento del primo chilometro. Mille iniziali in 1-17, Suoi A al comando, Saul Rodi sposta su 7-11, Pink. Numero 14, Sara Von, squalificato. E intanto Suoi A della Luna è in netto vantaggio, 3 quarti di miglio in 1-32, Suoi A al comando, poi 7-11, Saul Rodi, al sol caliente VL. La retta di arrivo con Suoi A della Luna in nettissimo vantaggio, Suoi A della Luna, Isomara. Numero 1, Shomar, squalificato. Al comando, poi Spider Blessed, Saul Caliente, a centro pista, Sharada B, Suoi A vince facile, poi Spider Blessed dopo errore è ancora secondo, su Saul Caliente, VL. 2-2,5 sul mio cronometro, 16,5, più o meno dovrebbe essere il riferimento ufficiale. Quota di 3,82, vince Suoi A della Luna con Enrico Bellei. Il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia, Zio Piero. Eh sì, si parla, si parla, poi vince Bellei, questa è un po' la regola in Toscana, insomma. 11-1, c'è stato uno strappo violento a partire che ha tagliato le gambe a molti, vedete? 10 al secondo posto, poi 9 al terzo.